La classe dirigente etnea di Futuro e Libertà ha incontrato nel pomeriggio il senatore Mario Baldassarri, responsabile nazionale delle politiche economiche del movimento, che fa riferimento al presidente della Camera Gianfranco Fini. All'incontro, accanto al senatore Baldassari, presente il senatore Nino Strano e il coordinatore provinciale di Futuro e Libertà Pucciola Rosa. Si è parlato di come avviare una seria riorganizzazione degli apparati burocratici statali, regionali e locali, sviluppando politiche economiche coerenti, rispettose del territorio e tese a creare occupazione e crescita sociale. Le manovre di aggiustamento fatte dal precedente governo al fine di ottenere l'azzeramento del deficit, se quell'obiettivo lo si persegue aumentando le tasse, tagliando gli investimenti e non tagliando il cuore vero che sono gli sprechi della spesa pubblica corrente, i veri costi della politica, che il presidente Gian Paolino della Corte dei Conti giovedì scorso ha stimato in 60 miliardi di euro. Ecco, se non si tolgono quelle spese da lì e si mettono invece nelle tasche delle famiglie, delle imprese, negli investimenti, nella ricerca, la crescita economica non avviene. Il governo Monti deve fare quelle cinque riforme strutturali che ha annunciato e per le quali noi abbiamo convintamente dato la fiducia. Noi in Parlamento continuiamo a spingere il governo Monti perché le faccia fino in fondo tutte a pieno, come in questi giorni sul decreto liberalizzazione, e speriamo che anche le altre forze politiche che sostengano il governo siano coerenti rispetto alla fiducia che hanno dato, perché non basta dare la fiducia in quel giorno, poi quando arrivano i provvedimenti in Parlamento cominciarsi a defilare, a fare distingo, questo mi piace, questo non mi piace, questo va bene, questo non va bene. Al di là delle polemiche che sono nate tra Confindustria e Sindacati, questa riforma del lavoro, secondo lei, è quella giusta? Ma guardi, il problema è a rovescio. Il mercato del lavoro italiano è spaccato da anni, tra ipergarantiti e ipersfigati, come si usa dire adesso in termine un po' francese. E quindi il problema è come riunificare diritti e doveri e cercare di sparmarli in modo più eco su tutti. Quindi l'idea di avere un contratto le cui garanzie crescono con l'anzianità e nel tempo, che però sia un contratto a tempo indeterminato, a me pare la strada giusta. Secondo Fli questo governo arriva a finire il suo mandato o si va a elezioni anticipate? Conventissimi che non si andrà a delle elezioni anticipate, che si completerà il mandato, non soltanto perché non vi sono condizioni per andare davanti alla frana di altri partiti, e quindi sono questi partiti stessi a non volere. Il PD di Genova e il PDL di Palermo non sono assolutamente nelle condizioni di affrontare una campagna elettorale. Quindi anche se lo dicono a volte, e lo dicono sempre più di rado, non ci sarà assolutamente la volontà di questi partiti di poter andare ad affrontare una situazione elettorale. Mentre invece è chiaro che oggi è necessario avere, come diceva il professore Baldassarri, qui a Catania oggi per future libertà, è necessario avere questo anno di tempo per recuperare ciò che è possibile recuperare dopo tanti anni, nei quali chi ha governato centrodestra e centrosinistra hanno avuto le possibilità di realizzare quelle cinque riforme che invece il governo Monti sta in poche settimane con grande fermezza realizzando. In Sicilia ci si sta organizzando per le elezioni di maggio, restate dell'idea del terzo polo con anche il Partito Democratico che vi sostiene? Ma no, guardi, noi a Palermo non abbiamo nessuno che ci sostiene se non il terzo polo, sono gli altri che stanno già pensando, per non far brutta figura, di affiancarsi a noi.